buongiorno perché per me giorno per voi e buonasera non so neanche quando apparirà questo video ma sempre le stesse cose sempre le stesse facce sempre vedete io che barba che noia che noia che barba riprendiamo qualche playlist vecchia ma prima che noia che barba devo far salutare le di ghost le di sadako le di nastrino e le di kitzu mio harem spiritico riprendo dico una playlist che avevo lasciato un po nel cantuccio ma che invece è interessante ogni tanto portare avanti ed è la playlist dei gomblotti quanto mi piace chiamarli gomblotti tutte le volte che parlo di qualche con blotto perdo dei follower perché la maggior parte di quelli che perdo sono tutti personaggi che ai gomblotti ci credono a prescindere ma per quelli che invece continuano a seguirmi io trovo estremamente importante parlare anche di queste cose anche perché sul web molte volte la linea di confine che sfarfalla tra lo pseudo paranormale inventato e il gomblotto è veramente labile buttano il paranormale dentro i gomblotti in poche parole e quindi vi leggo un pezzettino e poi vi racconto la storia ci fu una domanda la domanda di una signora a un determinato personaggio di cui poi ora a breve parlerò in questo video che gli scrisse qualche tempo fa paio d'anni fa ho un canarino cosa devo fare e il suddetto personaggio di cui parlerò in questo video le rispose mantieni la calpa la calma ma sappi che hai in casa un avanzatissimo drone governativo di sorveglianza che osserva ogni tuo movimento ascolta ogni tua parola e manda dati direttamente al pentagono i canarini non esistevano prima del 2001 quando tutti gli uccelli divennero droni di sorveglianza fu proprio allora che il governo iniziò una campagna di propaganda volta a normalizzare i canarini se ci pensi bene un canarino in gabbia non ha alcun senso sono animali fatti per esplorare i cieli il consiglio è di non parlare di cose che preferiresti restassero private soprattutto davanti al tuo canarino che detta così oggettivamente fa ridere ma fa tanto ridere quello che non fa ridere e da dove da che storia ho preso questa domanda e questa risposta stiamo parlando di un personaggio apparso su internet in generale ma per lo più partito dagli uniti d'america in particolare dall'arkansas all'epoca diciannovenne che si chiamava perdonate se pronuncio male il cognome ma è di origini credo scozzesi e non so bene quale sia la provincia perfetta comunque si chiama peter mackindo credo ma noi lo chiamiamo mackindo chi è mackindo mackindo all'età di 19 anni appunto piantò le basi per uno dei più grandi movimenti complottisti o simili tali americano che si chiama bird aren't real gli uccelli non sono reali mackindo nasce in una famiglia chiusa nella mentalità religiosa a sette tra fratelli e sorelle e sin da piccolo gli vengono impulcate teorie anticristianesimo in generale antidio complottiste da parte degli stati uniti o del mondo intero fra le tante lui ricorda spesso anche con una certa nota ironica che barack obama veniva considerato l'anticristo in persona insomma mackindo in famiglia sente sempre queste storie e obama è l'anticristo e quell'altro vuole distruggere la fede e quell'altro è stato mandato da satana e cica di qua cica di là cicano allegramente tutte ste boiate ma siccome ha un cervello ragiona su quello che sente dire in casa da amici e parenti della famiglia fortunatamente per lui all'età di 19 anni si iscrive all'università inizia a utilizzare costantemente internet e più in là sarà il primo a dichiarare che grazie a internet grazie ad alcuni amici e professori dell'università e grazie ai suoi studi al di fuori dalla sua comunità e dalla sua congrega familiare congrega mi piace congrega perché congrega anche se si pronuncia così mi sa di cadrega e non lo voglio di e quindi dico congrega farò un esposto all'accademia della crusca per cambiare l'ascento ma nel frattempo la chiamo congrega fatevene una ragione e inizia a scoprire tutto il ciarpame complottista che si aggira per internet e tutte le relative invece risposte serie sensate scientifiche umanamente comprensibili che ci si possono dare alle varie teorie ora siamo nel 2017 e in america ci sono orde di protestanti anti trump e orde di accaniti sostenitori di sostenitori di trump mentre mckin do chiamiamolo peter che mi viene più facile che mckin do mentre peter sta passeggiando per gli affaracci suoi per le strade della città si imbatte proprio in un corteo di movimento di femministe anti trump e legge alcuni slogan alcuni cartelli ormai è talmente abituato a riconoscere a naso i complottismi e le stronzate su cui si appoggiano determinati personaggi che al terzo cartello già aveva capito che il 90 per cento del corteo era una merita buffonata non perché non si debba andare con trump o contro trump con tizio o con toccaio ma proprio per quello che scrivevano in certi cartelli prendendo per buoni appunto millemila ottocentanovantasette virgola due periodico complottismi che viaggiavano tranquillamente per il web così decide di fare un cartello e di unirsi ma proprio a mero scopo di studio del comportamento umano non l'avrei fatto anch'io oggettivamente massima stima per peter prende un cartello e così di istinto scrive birds aren't real e comincia a seguire il corteo ovviamente durante un corteo con tanto di cartello in mano troverai sempre tizio caio semprone e pinco palla che ti chiederanno il significato del tuo cartello anche lui che aveva avuto quell'input così di scrivere una frase at cazzum come uso dire io tanto per si trovò a inventare la motivazione del suo cartello e gli uscì così in maniera estremamente semplice e data per reale spiegò quindi che il suo cartello voleva far conoscere la verità alla gente sugli uccelli perché gli uccelli in realtà non erano animali tutti gli uccelli che si vedevano in aria erano dei droni dei droni che spiavano le persone la prova inconfutabile di ciò che diceva era che ogni tot di tempo li si vedeva appoggiare ai cavi elettrici perché si appoggiava nei cavi elettrici nei vari piloni per le strade per le campagne perché si ricaricavano semplice i veri uccelli erano stati distrutti nel corso del tempo dai servizi segreti americani dal 1954-59 in poi fino ad arrivare al 2001-2002 dove ormai erano completamente estinti e totalmente cambiati con dei droni di tecnologia estremamente avanzata che avevano l'incarico proprio di perlustrare le zone a riscontro della sua ipotesi portava ad esempio citazioni e film come Uccelli di Hitchcock Uccelli era in realtà un messaggio subliminale che voleva far sapere al mondo quello che stava accadendo e Hitchcock non aveva trovato niente di meglio da fare che crea quel film per dare l'idea che negli uccelli ci fosse qualcosa che non andava lui aveva raccontato questa cosa diciamo in maniera ironica un po' per vedere come avrebbero reagito i personaggi di quel corteo e un po' tanto per fare una buffonata giornaliera ma contrariamente alle sue aspettative un sacco di persone gli davano assenso quando lui spiegava e si rendeva sempre più conto nell'arco di quella giornata che la gente era troppo facilmente plagiabile da un semplice discorso che può avere parvenza di competenza e di istruzione giunto quindi a casa creò una serie di canali sul web e siamo sempre nel 2017 proprio intitolati al movimento Bird Harden Trail beh soprattutto in America ma in giro un po' per tutto il mondo iniziarono a agganciarsi a questa teoria moltissime persone una quantità infinita lui proprio in questi tempi ha rilasciato un'intervista al New York Times ufficiale nel quale ha raccontato che la sua fu tutta una bufala che sue testuali parole fu una cosa spontanea fatta tanto per ma che portava anche e che mi portò a una considerazione sull'assurdità di quanto stava succedendo comunque dal 2017 Peter ha cavalcato l'onda del successo non tanto per guadagno tanto è vero che dichiarerà al New York Times che lo stesso articolo dove lui veniva intervistato intervistato probabilmente non l'avrebbe nemmeno mai eletto perché non aveva la possibilità finanziaria di abbonarsi al New York Times iniziò quindi questa propaganda oggi era twitter che era pilotato dal governo ed era legato proprio all'esperimento degli uccelli droni tanto è vero che il suo simbolo un tempo era l'uccellino tweet tweet iniziò a creare magliette a creare gadget inerenti a beer tarant rail fin quando appunto l'anno scorso decise di raccontare tutta questa situazione e questo enorme blef fatto di proposito e portato avanti peraltro con molti mezzi aveva per esempio creato un video dove aveva pagato un attore per impersonare un vecchio dipendente della CIA che doveva parlare ancora altri attori che si dichiaravano combattenti del movimento beer tarant rail insomma volantini quant'altro poi per l'appunto quasi sei anni dopo decide di raccontare tutto al New York Times e di rigirare il significato vero che ormai aveva preso piede negli anni del movimento beer tarant rail che non era più quello di recuperare adepti complottisti che credevano alla teoria degli uccelli sterminati dai servizi segreti americani e poi sostituiti da dei droni spia ma al contrario un movimento e un gruppo atto proprio a smascherare i complottismi e a mettere nero su bianco ciò che era la verità delle cose le domande che apparivano sui suoi siti erano al limite dell'umana concezione della sanità mentale ma c'erano anche domande tra virgolette sensate alcuni chiedevano e le uova allora cosa sono oppure come si spiega allora che mangiamo anche carne di uccello e come si spiegano gli uccelli uccisi cacciando o guidando e i veri uccelli morti dove sono questa è un po' più stupida come domanda perché oggettivamente fosse nell'immaginario collettivo possibile che tutti gli uccelli del mondo siano stati sterminati da servizi segreti qui si parla della fine dello sterminio nel 2001 quando ormai tutti i pennuti sarebbero stati sostituiti da dei droni spia siamo nel 2023 quando ci fu l'intervista ha voglia a essere ormai completamente scomparsi e poi appunto tra le varie domande invece un po' più così così e com' sa com' sa com' si e com' sa ci fu appunto quella che vi ho letto in principio che ora col sapere della storia vi rileggo nuovamente ho un canarino cosa devo fare e la risposta bellissima di peter sul suo blog fu proprio quella mantieni la calma ma sappi che hai in casa un avanzatissimo drone governativo di sorveglianza che osserva ogni tuo movimento ascolta ogni tua parola e manda dati direttamente al pentagono i canarini non esistevano prima del 2001 quando tutti gli uccelli divennero droni di sorveglianza fu proprio allora che il governo iniziò una campagna di propaganda volta a normalizzare i canarini se ci pensi bene un canarino in gabbia non ha alcun senso sono animali fatti per esplorare i cieli il consiglio è di non parlare di cose che preferiresti restassero private davanti al tuo canarino peter sta portando avanti questo progetto ma ha anche buttato ambiguità disseminato ambiguità e indizi che davano pro e davano contro al movimento beard aren't real appunto l'intervista al new york times dove dichiarava il suo esperimento sociale tra virgolette è un'intervista invece al newsweek nel quale giocava sulle sue teorie e in una delle sue pagine si legge che il suo esperimento è anche un modo per ridere di certi deliri è un modo per non lasciarsi sopraffare da questi deliri io lo dico sempre purtroppo internet è aperto a tutti e quindi tutti possono scrivere qualcosa e questo non è sempre un bene alcuni ricercatori di studi sociali come ad esempio Joshua Citarella hanno dichiarato i possibili effetti negativi della cosa sono molto piccoli in questo caso non ci sono effetti veri e propri negativi in questo movimento l'offrire la possibilità di collaborare con questo tipo di approccio ai complotti può essere un modo terapeutico per costruire un qualcosa di reale questo perché perché comunque nonostante sia stato spinto e allargato questo progetto da questa semplice idea che Peter aveva avuto in quel momento durante quella manifestazione non ha mai istigato a cose negative o cose pericolose ha sempre solo dichiarato che appunto gli uccelli erano spie che portavano tutte le informazioni possibili su qualsiasi essere umano del pianeta al pentagono che considerando quanti siamo la trovo anche abbastanza infattibile nemmeno nel 2080 non nel 2024 o nel 2017 ancora meno Peter però poco dopo l'intervista al New York Times dove ammetteva la vera nascita del Beard Silence Real scrive un piccolo post su uno dei suoi profili e scrive ci siamo svegliati con un articolo del New York Times sul nostro fantastico movimento sfortunatamente non possiamo permetterci l'abbonamento e quindi non l'abbiamo letto ma se qualcuno lo fa ci faccia sempre sapere il 2021 è stato l'anno migliore che il nostro movimento abbia avuto fin qui nel 2022 abbiamo portato tutto a nuovi obiettivi entro la fine del 2023 speriamo di raggiungere la disattivazione di tutti i droni uccelli del cielo è stato un onore mostrare la verità all'america insieme a voi patrioti per continuare a mantenere quell'alone di vero non vero che dal 2017 ad oggi Peter ha continuato a mandare avanti questo è interessantissimo e chi ha un po' di cognizione mentale dovrebbe essere aiutato da una storia come questa a ragionare su certe tematiche perché avete un'idea di cosa significhi credere che tutti gli uccelli del mondo siano stati distrutti e sostituiti con dei droni di altissima tecnologia dal 1954 al 2001 che tutti questi droni mandino le informazioni di tutte le persone del mondo al pentagono che non riusciamo ancora neanche ad avere i risultati finali del reddito dell'assegno di inclusione che sono ancora tutte acquisite le domande però al pentagono ci arrivano le informazioni di tutti gli esseri umani del mondo perché al pentagono di quante volte scorreggio io in camera viene frega tanto sono importantissima io per il pentagono e dovrebbe far ragionare su determinate cose spacciate per vere che sul web viaggiano a livelli assurdi con delle teorie dietro ancora più assurde siamo in democrazia fortunatamente e ognuno è libero di fare dire pensare tutto ciò che vuole purché ciò che dice fa o pensa non le da la libertà altrui e quindi chi vuole credere che gli uccelli siano dei droni lo faccia pure io una sola cosa dico sempre ai complottisti complottisti in generale di qualsiasi complotto si parli è cosa buona e giusta che tu abbia le tue idee è cosa buona e giusta che tu creda in ciò che ti pare non è cosa buona e giusta quando ti ti scaldi ti alteri e cerchi a tutti i modi di convincere anche gli altri soprattutto quando il tuo livello di comprensione a prescindere dai titoli di studi eccetera ma proprio di comprensione mentale non arriva più in là di un certo gradino detto questo questa è la storia di peter non so quando lo caricherò quando andrà in onda ma mi auguro sinceramente che tante persone che magari non sono complottiste o gomblottiste ma che qualche dubbio in testa ce l'hanno possano essere aiutati proprio da queste storie da questi video e da questi esperimenti a capire meglio da che parte guardare certe situazioni anche questo è un aiuto e il mio canale cerca sempre di aiutare le persone in tutto ciò che può in tutto ciò dove arriva ma soprattutto cerca di insegnare a ragionare con la cavessa propria detto questo il mio arem spiritico ovvero Lady Ghost Lady Sadako Lady Nasterino e Lady Kizzune risalutano io mi illumino dimmenso e risaluto pure io ciao